Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video che ho ridotto per tre volte perché non trovavo l'inquadratura giusta e stavo morendo di caldo il ventilatore ancora non mi sventola perché è lì il ventilatore ma non sventola o no cazzo comunque come potete vedere mi sono tagliati i capelli perché appunto sono iniziato e sto morendo di caldo sono un misto tra il carota, il rammato e la mia ricrescita che è fatta cara sembra che c'è un colore strano ma è in verità è la mia ricrescita che sono rasata che ho caldo ripeto tanto poi mi ritingerò però fin estate sono guardate i miei capelli perché sono in condizioni pietose perché facendo questo video di prima mattina fa già caldo ci sono già quasi 30 gradi perché il tempo mi vuole male ma potremmo pettinarmi un po' meglio in effetti perché non sono proprio pettinati che sto dicendo comunque voglio fare questo video perché abbiamo fatto, cioè ho fatto il sondaggio che video volete e è uscito novità novità sul canale non so quando farò i video, grandi novità allora farò video come faccio adesso a proprio a Muzzo e li butterò su youtube alla grande perché allora essendo appunto estate questo video è stato girato a luglio penso che sia il 20 luglio oggi si e se riesco può uscire stesso oggi allora perché mi sono rimasti solo video smr tra l'altro me ne sono rimasti solo due e non voglio farvi vedere solo video smr perché non ha molto senso quindi cercherò di fare qualche video ogni tanto non so di cosa adesso ha vinto video novità quindi mi centrerò su video di vario genere quindi dall'unboxing atto mi darò aggiungo mi darò aggiungo mi darò aggiungo un pacco quindi farò anche un video unboxing più caldo mi trovate su twitch che è nel canale viola chiamatelo come volete voi che appunto mi trovate ovunque sempre con Red Princess e un 93 è un'unica cosa faccio qualche like anche lì non so quando farlo perché dipende praticamente ho vari colloqui poi lavoro poi non lavoro poi non so che cacchio devo fare quindi purtroppo di vari impegni è un po' un casino in estate cioè un casino in tutto in generale questo periodo quindi anche per il via del caldo perché è terrificante fare dei video o live quando fa caldo quindi cercherò comunque però di mantenere il canale attivo e se riuscirò farò anche dei cambiamenti perché voglio cambiarlo un pochettino e niente poi suggeritemi anche voi se volete dei video qua sotto se volete dei video particolari oppure no e niente per quanto riguarda il resto non ho una programmazione stabile non ce la vero perché finché non so bene quanto è che lavoro chiamata quindi praticamente quando mi chiamano da lavorare se tutto va bene e poi devo vedere un po' se vanno in porto alcune cose però per il resto appunto voglio ottenere il canale più o meno non del tutto morto poi per il resto se ci saranno novità andrò da qualche parte queste cose qua vi farò qualche videoclip non metterò più le live di twitch perché intanto non me le guardate tutto il resto è possibile guardarvela andate direttamente su twitch e ve le guardate lì non le carico più perché è un casino scaricarle ogni volta caricarle poi intanto alla fine appunto stanno su twitch stanno lì perché avendo l'amazon prime e io rimangono lì i video poi se alcuni compariranno pazienza tanto sono sempre la stanno per chi se lo chiede sì ho twitch ho tiktok e instagram non ho più facebook l'ho tolto perché mi stava nulla a togliere facebook ma non lo sopportavo più troppa gente che mi seguiva troppi gruppi troppa non lo so non mi ho deciso di toglierlo per il momento ho tiktok mi diverto faccio di video cioè non faccio vedere i tiktok lo tengo perché mi diverto a vedere i tiktok degli altri ho sempre instagram tra l'altro c'ho tre account instagram io che sono appunto una red princess 93 che sarebbe il mio ufficiale poi ho aperto una pagina che si chiama se non sbaglio cuore di vetro dove pubblico delle frasi che mi suggerite voi o che le trovo su internet e poi ho quello del discolat che sarebbe il discord che gestisco insieme ad andrea 93 per i twitcher e non solo perché sono a maggior parte siamo tutti streamer però alcuni hanno appunto anche canali youtube hanno anche altre social network insomma quindi quello è proprio fatto apposta per la community lo usiamo veramente però esiste e poi ho appunto tolto facebook perché ho creato un bellettivo e poi ho un discord anche che però vale solo per gli streamer cioè più che altro quelli che hanno twitch però da una mano anche se avete youtube perché faremo poi un'area a parte anche per tutti i social stiamo un po' ristrutturando anche i vari discord e poi ho già tanti gruppi su telegram per appunto tante cose diverse quindi ho deciso di togliere facebook di mezzo diciamola così snapchat non ce l'ho più no l'ho tolto dall'epoca che fu di due prima della pandemia perché non mi trovavo sinceramente ho tolto anche altri social che non utilizzavo poi farò un video a parte non adesso perché secondo me è tutto sulle novità del canale che vi parlerò di un'applicazione fantastica che non collaboro con questa applicazione lo faccio semplicemente perché mi va di farlo e niente io spero che questo tutto sta cantilena che ho detto vi sia utile per il canale e niente poi appunto se volete dei video particolari su determinate cose si chiedono sotto nei commenti io vi accontenterò per adesso niente ci vediamo negli altri social vi aspetto sul canale viola su instagram, tiktok e basta per tutti i social niente io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video che non so quando sarà ma ci sarà ciao